E lì sono diventati amici, tanto che poi mi sono fidanzato con una folaga Non credo, spero di no Che però a fine rapporto ho cucinato Ah se l'hai mangiata Però l'ho mangiata risparmiando il gas Ma come l'ho cucinata, come l'ho fatto? E come l'ha fatto a cucinare la folaga? Tanto è batteritata come un hamburger Ah si fanno gli hamburger di folaga E poi la fisica ci insegna che la puoi cuocere L'hamburger Con una lenta di ingrandimento E lenta e raggio di sole, la lente concentra i fotoni Della raggio di sole su un puntino minuscolo Dell'hamburger diciamo Dopo circa tre ore Hai cotto perfettamente quel puntino Tre ore per un puntino? Si però Se l'ho sposto in inclinazione della lente Dopo altre tre ore Qua c'è un altro puntino E sono due puntini in sei ore Ho capito ma è lunga Però è per questo che si dice cotta a puntino Non è per quello Cotta tutto fuori Sì Dentro Dentro E tau Non è per quello che si dice cotta a puntino